Ciao, sono Chiara. Questa settimana per dare te ho intervistato Giorgio Sacconi, CEO di H-Pharm Digital Marketing. Abbiamo parlato della dashboard che H-Pharm insieme a Wired ha realizzato per il monitoraggio delle vaccinazioni in Italia. Allora, intanto, per chi non lo sapesse, di che cosa si occupa H-Pharm? Beh, H-Pharm è una piattaforma di innovazione, è un posto unico in Italia dove si mettono insieme le innovazioni delle start-up, tutto quello che noi facciamo con l'area di consultancy per le aziende, quindi innovazione scaricata nel business, e il nuovo modello di educazione di MySchool che abbiamo messo in campo negli ultimi anni con il campus a Catron. Invece, come è nata questa collaborazione con Wired e perché l'idea di creare proprio una dashboard che monitori le vaccinazioni in Italia? Ma guarda, alla fine i dati sono pubblici, non sono però intellegibili a tutti. Allora noi abbiamo cercato di dare un contributo al paese e abbiamo messo a servizio le nostre competenze, quindi le competenze di data visualization, per rendere questo dato un'informazione. Poi, se devo dirtela tutta, è nata veramente un po' per gioco perché è stato un progetto assolutamente pro bono che abbiamo fatto con il nostro cliente che è Condenastra, che ci ha dato la possibilità di rendere visibile questo contenuto e quindi l'ha pubblicato all'interno del proprio ecosistema editoriale. E quindi questi dati pubblici esattamente da dove arrivano? Abbiamo all'interno della nostra società dei data architect che sono andati a prendere il dato in feed pubblico, che è proprio la pubblica amministrazione, rende disponibili su delle API pubbliche questi dati a tutti, cioè non a noi, a tutti, a qualunque cittadino vogliono andarseli a prendere. Cosa abbiamo fatto noi? Li abbiamo resi gestibili in forma di big data e quindi aggregati e poi, sopra questi, abbiamo impostato con i ragazzi che fanno data visualization, abbiamo trasformato questo dato in informazione data visualizzandolo. Il dato è sempre quello della pubblica amministrazione Condenastra, è un po' la punta dell'iceberg, ti permette di far emergere questa informazione. Per quanto riguarda il sito, dal momento in cui l'avete aperto, quanto è stata più o meno la portata delle visite a questo sito? Considera che è online da meno di due mesi e ha già fatto 200.000 pagine di visualizzazione. Il dato che ci fa molto piacere è che le persone tornano e hanno una penetrazione all'interno del sito di un minuto e mezzo come tempo medio di navigazione. Quindi che cosa posso capire io da utente guardando questo dashboard? Ma come ti dicevo, l'informazione è organizzata in quattro macro contenuti che poi vi invito a esplorare. Qua ci sono alcuni highlight che vengono proprio facili, immediati, a galla. Il primo è il tempo che ci aspettiamo. Abbiamo sviluppato una funzione predittiva del tempo di immunizzazione della popolazione italiana. Quindi quando raggiungeremo quella famosa immunità di greggio di cui tanto si parla. E puoi vedere la storia dei diversi vaccini. Veniteci a trovare tra qualche giorno perché ci saranno delle novità all'interno della dashboard.